Sono Antonio Faccioni, sono il responsabile della divisione avviocontratto di FBT e anche di PASO, in quanto presentiamo qui alla Fiera Ise, siamo in questo stand FBT e PASO. Recentemente, a fine del scorso anno, la FBT ha acquisito l'intero pacchetto azionario della PASO, per cui ci presentiamo per la prima volta a Ise, qui ad Amsterdam, insieme con due brand, due aziende, entrambe aziende storiche del settore della diffusione sonora, dell'installazione, del conference, del voice evacuation system. Infatti qui presentiamo, in questo lato dello stand FBT, presentiamo la List Hold Sound, che è un'altra divisione di FBT con una serie di nuovi prodotti specifici per l'installazione di alta faccia. Quindi abbiamo dai line array digitali, azione digitale, alle casse acustiche in legno per installazioni in ambienti quali teatri, ristoranti, comunque luoghi ricreativi e diffusori acustici invece per applicazioni in esterno. Sono dei diffusori stagni P55 che possono essere installati in stadi, centri sportivi, dei palazzetti allo sport e così via. Poi l'altro prodotto invece che presentiamo è il MAD4EP, che è un sistema per la gestione sia dell'audio sia della nomotica. Con questo sistema riesco a costruire una rete interna per la distribuzione audio, con distribuzione di musica, annunci eccetera, oltre che coniugare anche la gestione di attività di domotica o di building automation, come l'accensione delle luci, l'attivazione di vari scenari e così via. Poi dall'altra parte invece PASO è molto più focalizzata storicamente nel settore del PA e del VA. Il nuovo sistema, questo è il nuovo PA8506 che è un sistema certificato secondo le normative europee N5416, infatti abbiamo riportato il certificato sul retro. Questo è un impianto che abbiamo certificato per costruire fino a 12 zone per dare segnalazioni di allarme sia in centri commerciali, aeroporti, stazioni, scuole, riuscendo quindi a combinare due di queste unità per espandere il sistema fino a 12 zone.